Fino al 29 giugno le sale dell'ex Real Collegio ospiteranno la rassegna d'arte dal titolo Emozioni, organizzata dall'Associazione Arte in Lucca. Una collettiva di pittura, scultura e fotografia che mette in mostra le opere di numerosi artisti nella suggestiva cornice delle sale e dei corridoi dell'antico convento. Pitture, sculture, ceramiche ed installazioni realizzate dai membri del collettivo e dai temi più disparati accompagnano il visitatore attraverso un percorso dagli stili più diversi. Ma non solo opere di arte visiva, durante la manifestazione infatti si terranno anche concerti e spettacoli di danza. La presidente uscente di Arte in Lucca, Anna Garibotti, ha descritto nella prefazione del catalogo «La nostra iniziativa vuole contribuire a quanto di culturalmente valido si muove nella nostra città per la fruizione dei cittadini e per offrire stimoli e accoglienza ai turisti in visita». L'esposizione rimarrà aperta fino al 29 giugno a ingresso gratuito, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.